La cifra è iperbolica E dammi la mano a mettere a posto i bigliettini Anche i bigliettini hai comprato? Oh ma veramente sei esagerato 450 lire di bigliettini Poi adesso i bigliettini come facciamo a sapere a chi va quello, quello, quello? Facciamo confusione Non c'è problema Perché? Sono tutti panettoni da mezzo chilo Al massimo uno gli andrà un po' più di canditi Un po' più duvetta Ma non è che facciano le gran conferenze Panettoni? Eh cosa sono? Raga Ciao Auguri Auguri anche a te Buon Natale Buon Natale Buon Natale Le feste che bello Avremmo un presentino C'è una cosina? Sì per te Ma proprio Eccolo qua Che vergogno Ma com'è grande Bello eh Ma chissà che cosa ci sarà Diglielo a te che io mi vergogno C'è una cosa buona e dolce come te Wow Adesso lo apro subito Lo apro subito Non posso aspettare Che vergogna Che vergogna Oh Ma c'è dentro Wow Vediamo Beh non sapevo che un panettone le sarebbe piaciuto tanto È bellissimo Si vede che le ha toccata più uvetta adesso Oh Un anello di brillanti Wow Ci sono abituata Ne ricevo sempre ma ogni volta mi emoziono moltissimo Un anello di brillanti Oh Bellissimo guarda Sì eh Guardi caro Vedo È molto Buon Natale Grazie Buon Natale Buon Natale Pazzerò il Natale stupendo Ah sì Wow Un anello di diamanti Lei mi spieghi dove è finito il panettone Oh si vede che adesso mettono le sorprese nei panettoni Apriamo Sì le sorprese nei panettoni Ma piantala dai Oh Gigi Sì Sì Che ho sempre desiderato E che non dividerò con nessuno Grazie